Buongiorno ed eccoci pronti anche a leggere i quotidiani sportivi e gli articoli e i titoli di sport sui quotidiani generalisti. Per parlare di Udinese ma non solo, per parlare di Pordenone continua la striscia vincente della squadra allenata da Colucci che riesce a battere anche il Teramo al Bottecchia ed è sempre lì in testa alla classifica. Adesso ci saranno alcuni impegni ravvicinati che potranno dirci ancora di più qual è la forza di questa squadra, un Pordenone che ha dimostrato davvero di poter lottare per la conquista del primo posto e dunque il pass per la Serie B diretto senza passare per i playoff. Siamo soltanto all'inizio della stagione, è giusto mantenere ancora bene i piedi saldi per terra però la squadra ha dato dimostrazione di saper giocare a calcio e di essere dunque in grado di poter ambire al prestigioso traguardo. Andiamo a leggere il Messaggero Veneto per quanto riguarda la prima pagina, ci soffermiamo sul taglio basso a sinistra dove si parla della crisi dell'Udinese, c'è una foto di Del Neri che sbuffa il nostro viaggio nella crisi dell'Udinese, un flop che parte da lontano, scrive il Messaggero e poi si parla di un rapporto mai così incrinato e si fa ovviamente riferimento anche ai tifosi che hanno iniziato a mugugnare per i risultati della squadra. Andiamo a leggere all'interno che cosa scrive il Messaggero, tutto in 90 minuti ma la crisi parte da lontano, l'articolo di Pietro Oleotto, la Samp per il destino di Del Neri, la fiducia nel club e al minimo secondo quanto sostiene il Messaggero Veneto. Per il ritiro invece ci sarà da quest'oggi e si farà chiarezza oggi sia sulle modalità del ritiro che la squadra inizierà quest'oggi e concluderà dopo la partita, si spera dopo la partita con la Sampdoria, che vorrebbe dire aver centrato un successo, un risultato positivo, si giocherà ricordiamolo alle 18 di sabato prossimo, l'Udinese che dovrà ancora fare a meno di Danilo, di Perizza e di Widmer e dunque si comincerà con il ritiro questa sera subito dopo la ripresa della preparazione che avverrà al Bruseschi proprio in vista del match contro la Sampdoria. Qui vediamo una foto della gara di Roma con Bizzarri sullo sfondo mentre in primo piano Noiting che con le mani sugli occhi, un'espressione di sconforto e Berami vicino a Noiting anche lui con una posa che sa di sconforto anche lui per quello che hanno fatto a Roma i calciatori bianconeri, hanno riconosciuto di aver offerto una prestazione davvero al di sotto ma molto al di sotto degli standard che si richiedono a chi gioca nell'Udinese calcio. La gente come noi non canta più, la tregua dei tifosi, cori e striscioni di protesta, c'è solo una prova d'appello, il direttore generale Collavino dice possiamo promettere soltanto tanto lavoro e qui ancora Gigi Delneri. Eccolo qui, un segnale della società importante è quello di comunque mantenere la fiducia nel tecnico, spedire tutti in ritiro per provare a raddrizzare questa stagione iniziata male a partire dalla gara contro la Sampdoria. La società dunque conferma come dicevamo la fiducia a Gigi Delneri ma l'ambiente lo vuole meno integralista e poi circolano le voci su possibili sostituti, si parla di Guidolin e Reia, Reia messo anche nel mirino del Verona che ha iniziato il campionato malissimo. Prima di cambiare pagina vediamo anche i richiami in alto sopra la testata che ci portano al Pordenone, dunque in Serie C, argomento che tratteremo in maniera approfondita tra poco e tra poco saremo anche collegati con l'edicola Cussignacco per una panoramica in generale sul calcio della nostra regione, dall'Udinesi fino alle Giovanili. Teramo, asfaltato al Bottecchia, Pordenone, Primato, Solitario, Basket, GSA, buona la prova generale, Nervitesi in casa Fortitudo, la formazione di Lollardo ha chiuso il precampionato con un amichevole a Verona battendo la formazione scaligera e adesso si appresta ad affrontare venerdì alle 21 al Carnera la Fortitudo Bologna. Mentre per il ciclismo, quindi ci spostiamo in ambito internazionale, Super Sagan, terzo mondiale, con dedica a Scarponi e il fenomeno Sagan ha conquistato per la terza volta la maglia iridata. Rimaniamo ancora in alto per parlare anche di motociclismo con il mezzo miracolo di Valentino Rossi che ha poco più di 20 giorni dalla frattura alla Tibia e Perone, si è messo in sella la sua moto ed è arrivato quinto lottando quasi fino al termine per un posto sul podio. Marquez straccia il Dovi ad Aragon, ma Valentino Rossi è il protagonista, è stato definito il vincitore morale di quella gara, della gara che ha vinto Marquez. Continuiamo con il messaggero Veneto, anche per fare una panoramica sulla Serie A in generale, quello che è successo ieri e qui c'è una bella foto di Dovan Zapata che ha appena scaraventato alle spalle di Donnarumma il gol dell'1-0 della Sampdoria che poi finirà per vincere 2-0. La Sampa fa paura, Milan al tappeto, Zapata e Alvarez mettono in evidenza i difetti rossoneri, mentre arrivano notizie purtroppo non buone da Napoli per quanto riguarda la salute di Arcadius Milic che dovrà essere sottoposto ad un altro intervento chirurgico, lo sosterrà, lo effettuerà quest'oggi il professor Mariani e si parla di una rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, dopo l'operazione si saprà di più sull'entità dell'infortunio e del recupero del calciatore sui tempi di recupero. Andiamo a leggere i risultati al completo della giornata che si è chiusa ieri con il pareggio tra Fiorentina e Atalanta. Tra Cagliele e Chievo è finita 2-0 per il Chievo, dunque Corsara, la formazione di Maran, poi il Crotone ha battuto il Benevento 2-0, ancora di più la crisi del Benevento, Fiorentina e Atalanta 1-1 con l'Atalanta che ha pareggiato nel recupero, la Lazio ha vinto 3-0 a Verona, l'Inter ha battuto all'ultimo assalto quasi poco prima del novantesimo il Genoa 1-0, la Juventus ha strapazzato nell'anticipo il Torino 4-0, Roma-Odinese è finita 3-1, la Sandorio ha battuto il Milan 2-0, il Bologna ha vinto il derby emiliano contro il Sassuolo espugnando lo stadio di Reggio Emilia per 1-0, mentre il Napoli ha vinto non senza difficoltà contro una Spal Coriacea che ha dimostrato di essere davvero una squadra che può lottare per mantenere la categoria, il Napoli ha vinto 3-2 e sono soltanto due le squadre a punteggio pieno, Napoli e Juventus con 18 punti, il Napoli figura davanti a tutte per una differenza a rete migliore, 22 gol fatti, 5 subiti, la Juventus ne ha fatti 18, ne ha subiti 3, poi Inter 16 e Lazio 13, si completa il gruppo delle 4 squadre in zona Scudetto Champions, poi Roma e Milan alla finestra con 12 punti ma la Roma ha una partita in meno, quella che dovrà recuperare contro la Sampdoria e non si sa ancora quando si recupererà questo match che fu rinviato a causa dell'allerta meteo che nella prima giornata di campionato si abbatte sulla Liguria. Abbiamo adesso il collegamento con il Vice Ispettore Cristiano Beretta dalla sede centrale della Polizia Locale di Udine per le informazioni su traffico e viabilità, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, la situazione viaria presenta un traffico sostenuto ma abbastanza scorrevole, non ci sono al momento particolari problemi, segnaliamo come al solito qualche rallentamento dovuto alle corriere al terminal degli studenti in via le Monsignor Nogara e via della Faula, soprattutto adesso appunto intorno proprio a questo orario, in questo momento, però per il resto non ci sono altre situazioni particolari di cantieri, tutto oggi dovrebbe essere abbastanza tranquillo in questo senso. Grazie, grazie al Vice Ispettore Cristiano Beretta, dunque un po' di traffico sostenuto ma nulla di problematico, il traffico è comunque scorrevole. Grazie, grazie e buona giornata. Continuiamo con i giornali, siamo alle 7.45 e tra un po' andremo a collegarci anche con Cussignaco, con il nostro inviato David Zanirato, ma noi proseguiamo la nostra lettura dei quotidiani. Lasciamo un attimo il messaggero per andare sul gazzettino e riprendere i temi relativi all'Udinese, ma iniziare a parlare anche del Pordenone. Infatti qui in apertura del gazzettino con questa nuova veste grafica, vedete la pagina dell'inserto Ogni Sport, l'allungo nero verde e qui si parla soprattutto del Pordenone che è l'argomento del giorno, visto anche che l'Udinese ha giocato sabato, ma l'Udinese occupa in questa prima pagina dello sport uno spazio in taglio basso, l'Udinese al bivio, Pozzo manda tutti in ritiro. Questo è il titolo dell'articolo che si occupa dei bianconeri a firma di Guido Gomirato, il patrono nelle nuove decisioni del genere in passato ha funzionato. Di tutti questi argomenti naturalmente parleremo oggi nel Tonight, condotto da Giorgia Bortolossi con i suoi ospiti in risposta. Abbiamo dunque la possibilità di fare anche un punto sulla situazione del ritiro, ne sapremo di più anche sulle modalità del ritiro della formazione del Neri a partire da oggi. Qui la pagina con gli approfondimenti dedicati proprio all'Udinese, troppi errori e poca fame, ansia del Neri, se la crisi dopo il periodo di clausura non dovesse passare, il tecnico di Aquilea sarebbe il primo a pagarne le conseguenze. Per ora l'allenatore ha confermato, ma le cinque sconfitte pesano. Ecco qui un'immagine di El Sharawi che batte Bizzarri dopo il regalo di Stryger Larsen che aveva praticamente stoppato il pallone e messo su un piatto d'argento il gol del 3-0. I tifosi vanno all'attacco, adesso basta, la curva nord spinge i giallorossi e andiamo qui a vedere invece quelli che sono i problemi secondo il Gazzettino, problemi che riguardano soprattutto la difesa che è incapace di reggere le sortite avversarie e poi mancano le giocate per gli attaccanti. Il ritiro rigenera i bianconeri. Questa è la strategia del paron Gian Paolo Pozzo lo insegna il passato. Il vecchio caro ritiro a volte sortisce effetti positivi. Speriamo, speriamo che la squadra ritrovi davvero se stessa a convinzione nei propri mezzi che non sono pochi e che riesca ad uscire da questa spirale, da questo vortice pericoloso in cui si è andata a cacciare. Come diceva Valon Berami sabato al nostro microfono bisogna evitare che questo vortice coinvolga in maniera irreparabile tutta la squadra perché poi è difficile venirne fuori. Quindi devono essere proprio i giocatori più esperti. Lui come Bizzarri e come altri della squadra, il capitano Danilo quando rientrerà speriamo presto ma anche se non in squadra Danilo può essere importante in spogliatoio proprio per far crescere i giovani e per evitare che ci sia uno stato di depressione tale dal quale sarebbe poi davvero difficile venire fuori. La medicina migliore ovviamente è il lavoro e successivamente il risultato positivo poi si prende fiducia e la squadra può ovviamente continuare sulla strada dei risultati positivi ma lo scoglio da superare adesso è quello di cominciare a fare punti. Dopo la vittoria col Genoa serve una vittoria contro la Sampdoria, è inutile nascondersi. Adesso siamo in grado di passare all'argomento Pordenone, lo facciamo andando a leggervi intanto il titolo del Gazzettino Veneto, poi vi faremo vedere la sintesi delle sei reti di ieri della partita, gli highlights con le sei reti di ieri partita che abbiamo trasmesso ieri sera in differita esclusiva e che riproporremo domani alle 16. Approfitto per ricordare a tutti gli appassionati del Pordenone e in generale a chi segue le vicende della squadra neroverde che il martedì alle 16 è il giorno che abbiamo deciso di destinare al Pordenone per la replica del match, quindi sempre ogni settimana quando il Pordenone gioca, ovviamente quando non c'è la partita il martedì non va nulla, ma quando c'è il turno di campionato il martedì alle 16 è il giorno in cui potete sicuramente vedere il Pordenone in onda. Poi per quanto riguarda il primo passaggio siamo purtroppo condizionati ai regolamenti della Lega di Serie C che consente a seconda dell'orario di svolgimento di trasmettere la partita il giorno stesso di svolgimento come abbiamo fatto ieri sera perché si è giocato alle 14.30 oppure richiede di trasmetterla il giorno dopo come è successo altre volte, quindi l'abbiamo trasmessa alle 23 del lunedì. Il giorno è orario fisso, martedì alle 16, poi giorno di gara o lunedì sera, questo a seconda dell'orario di svolgimento del match, ma voi seguite i nostri programmi che pubblichiamo sul sito internet, su facebook ed anche quotidianamente nel box dedicato nella pagina tv del messaggero e da questa settimana anche nella pagina tv del gazzettino dove potrete trovare tutte le informazioni sulla nostra programmazione. Ma adesso vediamo il titolo del gazzettino sulla squadra di Colucci, poker, nero verde, show di danza, al Bottecchia un Pordenone d'applausi cancella l'11 abruzzese, doppietta del centrocampista segnano anche Saint Mazza e Gerardi. Adesso andiamo a vedere gli highlights con la voce di Marco Agrusti che è il telecronista ufficiale per le partite del Pordenone e dunque vediamo lo show dei ramardi contro il Teramo ieri pomeriggio a Bottecchia. Se la fa bene stavolta è aperto per Formiconi che ha spazio, prova a salire Formiconi, cerca ancora Gerardi al centro, per Saint Mazza, danza gol dentro, lo bagna così l'esordio da titolare con un gol bellissimo, Dejandanza, che esordio! Prova a puntare l'aria, parte il destro di Saint Mazza, la deviazione di Ciurria che mette in difficoltà calore. Ha ricordato intanto il pallone con Ciurria che parte col sinistro, Ciurria, palo clamoroso, Gerardi è tutto buono, Gerardi per il 2-0 del Pordenone, Federico Gerardi ma ha fatto praticamente tutto, un grande Patrick Ciurria. Gerardi vede Misuraka in area di rigore, Misuraka non ha spazio per l'incrasso, allora torna da Diagostini, lui sì che c'è lo spazio per Gerardi di testa, pallone che finisce alto, il Pordenone però gioca bene a calcio, allarga Burrai per Diagostini che controlla il pallone, mette il cross, è pericoloso, Saint Mazza! C'è festa anche per lui, all'esordio da titolare al Bottecchia, è la giornata delle prime volte, prima Dejandanza, adesso Michelang e Saint Mazza per Varas, il cross di Varas per Foggia che però è fuori gioco, si è alzata la bandierina dell'assistente Cartaino. Sbaglia, Parodi e lancia involontariamente Tulli, Tulli che ha preso l'adesso per Baccio Terracino, può andare al tiro, Baccio Terracino col pugno, non va di prima intenzione Vento, prova a sfidare nell'uno contro uno Diagostini, poi l'uno due con Ilari, Vento in area di rigore, il cross è buono per il smanaccia, occasione più, adesso gioca a pallone a terra del Pordenone, suggerimento di Saint Mazza per Ciurria, Ciurria, la parata è il gol del quattro, anzi no scusate, scusate ha dato l'illusione del gol, ovviamente l'illusione del gol, chiedo scusa, fuori Speranza e poi Diagostini, basso per Misuraka, destro di Misuraka, pallone alto, Pordenone ancora vicino al gol del quattro, Tulli, pallone per Graziano, il colpo di destra rimpallato e poi il sinistro è il gol di Ilari, nella mischia, Ilari, il gol del 3 a 1, riapre parzialmente la partita, il Teramo con il gol di Ilari, Casascio in questo caso però Martignago arriva a rubare il pallone, Martignago c'è Silvestro al centro, Martignago lo vede, c'è Silvestro, danza, è il gol del 4 a 0, non solo un gol, una doppietta, apre e chiude, Dejan danza, il pallone, allora Sumare, Sumare, Simbo, la Sumare, poi Stefani, ci sarà calcio di rigore per il pallo di mano di Mirko Stefani che viene anche ammonito, rigore sul sinistro di Sumare, il rigore per il Teramo, il pallo di mano del capitano del Pordenone, Mirko Stefani, fischia adesso De Angeli, va Barbuti, si muove Perilli, Barbuti lo spiazza, è il gol del 4 a 2, il gol dell'ex Riccardo Barbuti, anche il Teramo, finisce qui, un Pordenone spettacolare, vince la sua partita, 4 a 2. E' stato davvero un gran successo quello del Pordenone che dunque ha superato lo scoglio Teramo e continua la sua marcia in testa alla classifica, cominciamo a sentire anche la voce dei protagonisti, ascoltiamo Danza, il giocatore che ha messo a segno una doppietta, la prima partita da titolare è stato schiato al primo minuto, ha offerto una grandissima prestazione oltre ai gol che hanno permesso al Pordenone e insieme a quelli degli altri calciatori, Gerardi e Stein Mazza, di completare il 4 a 2 contro il Teramo. Sentiamo. Il protagonista assoluto di questo incontro, doppietta per lui all'esodio con il Pordenone, una vittoria strameritata. Sì, siamo stati bravi a portare la partita dalla nostra parte, siamo stati anche bravi quando dopo il 3-1 a fare il 4-1 perché non è detto che magari se prendi il secondo inizia a soffrire fino alla fine, quindi dai, abbiamo avuto un bel atteggiamento fin dall'inizio e vittoria meritata e adesso riposiamo due giorni che c'è da pensare già alla partita di lunedì. Sei arrivato d'estate, ti sei subito ambientato qui a Pordenone? Sì, diciamo dai che qua è una grande famiglia, si sta bene, ti fanno sentire bene, organizzazione a livello top, mi sono trovato subito a mio agio con i compagni che già conoscevo comunque avermi affrontato i due anni di fila e niente, c'è un bel feeling, dobbiamo essere tutti sul pezzo perché ci sarà bisogno di tutti e mi sono fatto trovare pronto e va bene così, adesso, come ho detto prima, bisogna già pensare alla Ferralpi del lunedì. Infatti anche il mister l'ha ricordato poco fa, tutti durante la settimana in allenamento dovete lottarvi per sudare una maglia da titolare. Certo, diciamo che quest'anno il Pordenone ha fatto una rosa di 20, 24, adesso non so quanti siamo comunque tutti i titolari, quindi è un fatto anche positivo per noi calciatori che comunque dobbiamo sempre pedalare al 100% in allenamento e chi scende in campo deve sempre lottare per questa maglia e per l'obiettivo che tutti abbiamo. E questo è Danza, ripetiamo, ieri l'ha detto anche David Zanirato, ha sottolineato all'esordio del primo minuto per lui una bella doppietta, Pordenone che supera il Teramo anche grazie ai gol di Gerardi e Sainz Mazza. Sentiamo quest'ultimo al microfono di David Zanirato nelle interviste che abbiamo raccolto ieri in diretta dopo la partita di una trasmissione interamente dedicata ai Ramarri, studio e stadio speciale Pordenone che ripeteremo ogni qualvolta ovviamente non ci sarà la concomitanza con l'Udinese ma quando dovesse esserci la concomitanza con l'Udinese se il Pordenone gioca in casa giocherà in casa avremo comunque collegamenti dal Bottecchia e quindi un grande impegno di Udinese TV al fianco del Pordenone. Ma sentiamo Sainz Mazza al microfono di David Zanirato. Miguel Sainz Mazza protagonista anche lui in questa partita, il gol del 3-0 ma soprattutto questa botta al nado, innanzitutto come stai? Tutto bene, è stata una botta, poi faremo delle prove ma tutto a posto. Veniamo all'incontro, una partita che si era messa subito bene per voi? Sì, dopo 5 minuti penso pure un po' di più, abbiamo trovato subito il gol e è più facile affrontare la partita. Comunque non ci siamo mai fermati, siamo andati a fare il secondo, il terzo e quello è stato il bello della squadra. Ci racconti la preparazione di mister Colucci perché oggi abbiamo visto davvero dei meccanismi perfetti al centimetro nelle vostre manovre offensive. Sì, noi in settimana ci alleniamo sempre tutti questi meccanismi, anche senza palla, pure con palla. Ci abbiamo delle giocate che rilavoriamo tanto, ci mettiamo tanto lavoro di settimana e per fortuna anche oggi sono uscite queste giocate. La tua grande umiltà partita dalla cantera e poi arrivato in Italia e il desiderio di calcare i palcoscenici ancora importanti. Sì, certo, non sono venuto qua a fare il compitino, vogliamo sempre dare di più e oggi l'anno scorso era a Foggia, oggi al Pordenone daremo sempre il massimo per questa maglia e spero che sia un gran anno per tutti, passo a passo e sicuro che con il lavoro arriveranno delle soddisfazioni. Eh sì, è sicuro che con il lavoro arriveranno le soddisfazioni, su questo non c'è dubbio. Allora andiamo a vedere il quadro completo dei risultati della Serie C, Girone B, prima di ascoltare anche il presidente Loviso, lo faremo subito dopo la pubblicità quando continueremo a dedicare spazio al Pordenone. I risultati di ieri, Albinoleffe, Gubbio 2 a 1, Mestre, Triestina 2 a 1, prima sconfitta per la Triestina, Pordenone batte Teramo 4 a 2, Ravenna, Modena 1 a 0, Renate, Reggiana 1 a 0, continua la cavalcata anche del Renate, un clamoroso outsider in questa parte iniziale del campionato di Serie C. Il Padova ha vinto in trasferta contro la San Benedettese per 1 a 0, la Fermana ne ha fatti 5 in casa del Sant'Arcangelo, mentre il Bassano ha vinto contro il Sud Tirol in trasferta 2 a 1, pareggio tra Vicenza e Feral Pissalò 1 a 1 con il Fano che ha riposato nel turno di ieri. La classifica, come potete vedere, il Pordenone è in testa con 13 punti, seguito dal Renate a 12, il Vicenza fermo a 11 e quindi il pareggio di ieri con la Feral Pissalò costa la vetta al Vicenza che invece era prima insieme al Pordenone in testa, poi Fermana e Bassano 10, San Benedettese e Albinoleffe 9, Mestre 8, Feral Pissalò e Padova 7, Ravenna 6, la Triestina ferma a quota 5 insieme al Sud Tirol, Reggiana 4 con il Teramo, Fano 3 con Sant'Arcangelo, mentre Gubbio 1 e Modena 0 chiudono con gli ultimi due posti in classifica e il Modena desolatamente ultimo, una ex grande del calcio di serie C, di serie B con trascorsi anche in serie A che è in crisi di risultati, 0 punti dopo 5 partite per la formazione emiliana. Andiamo in pubblicità, sono le 8 in punto, torneremo tra poco, ancora Pordenone, ancora tanto sport con il basket che si avvicina alla partenza dei campionati, sia per quanto riguarda quello maschile di serie A2 che quello femminile di A2, quindi GSA Delser che scaldano i motori in vista dei rispettivi esordi in questo fine settimana e andremo ad analizzare la situazione in casa delle due squadre con gli articoli pubblicati dal Messaggero Veneto. Vedremo anche le prime pagine dei quotidiani nazionali per parlare in generale di tutto il weekend dello sport che ci siamo lasciati alle spalle. A tra poco.